Vuole... Mi sa che è giusto giusto, eh? Sì? Mmm, vediamo. Come sa che dobbiamo rifarutti quella roba, allora, sta signorina? Vediamo, eh? È troppo stretto. Due o tre giorni, va? Quando non inizio a mangiare la pappa della mamma. Sì, nel proposito della pappa della mamma, aspettiamo domani, giustamente, no? No, vabbè, lui l'ha... Lui già non...